A Bolzano la prima rata del Limi potrà con tutta probabilità essere pagata anche dopo il 16 giugno senza gravi. Il sindaco del capoluogo Luigi Spagnoli in un incontro con i rappresentanti dell'ordine dei commercialisti e dei CAF si è infatti assunto l'impegno di portare in consiglio comunale una delibera per considerare valido il pagamento della prima rata del Limi effettuato anche oltre il 16 giugno. Manifestazione di chiusura oggi della campagna contro il fumo organizzata dalla Lega per la lotta contro i tumori nelle quinte classi delle scuole elementari e medie dei tre gruppi linguistici in Alto Adige. All'auditorium Haydn di Bolzano sono stati presentati i brani musicali, le coreografie e i recitativi ideati nell'ambito del concorso di idee Sigaretta No Grazie. È stata anche l'occasione per regalare agli studenti presenti la maglietta dedicata e l'attestato di partecipazione all'iniziativa. Inflazione stabile a maggio a Bolzano. Il dato emerge dalle anticipazioni rese note dal Comune. Il costo della vita è aumentato rispetto a un anno fa dell'1,1%, quota identica a quella misurata in aprile. Il maggior incremento rispetto al mese precedente è stato registrato a maggio nella divisione prodotti alimentari e bevande analcoliche con un più 0,8%. Grazie a tutti.